Ragazzi siete veramente sicuri di esservi salvati per bene le parole di recupero del vostro Ledger Nano S? Ormai sapete meglio di me che le parole di recupero servono a ripristinare i fondi in caso succedano problemi o casini con il vostro wallet. Oggi parliamo di Ledger Nano, quindi ad esempio se perdo il mio Ledger, se mi viene rubato, se per qualsiasi motivo il Ledger smette di funzionare o se magari cade e si rompe, io grazie alle parole di recupero riesco a ripristinare tutte le mie criptovalute che tinevo qui dentro, ok? Quindi è evidente che le parole di recupero sono stra-importanti. Però lo ripeto, siamo veramente sicuri di esserci scritti e salvati per bene le parole di recupero? A me che sono un po' paranoico ogni tanto mi viene questo dubbio anche perché è un procedimento che si fa una sola volta. Quindi oggi vediamo come controllare se ci siamo salvati per bene le parole di recupero e cosa fare nel caso abbiamo sbagliato a scriverle. Allora ragazzi, quello che ci servirà è sicuramente il Ledger Nano S ovviamente e in più ci servirà il Ledger Live che è questa applicazione qua. Dovete entrare nella sezione Manager, quindi entrateci subito. In più chiaramente ci serve anche il foglio di carta o il supporto dove vi siete salvati le 24 parole di recupero, quindi dove vi siete salvati il vostro seed. Ora, una volta che siete qui dentro e avete tutto, per stare più sicuri ad esempio potete magari mettere un pezzo di scotch sulla webcam oppure potete girare, se avete una webcam mobile, la potete girare o disattivare. In questo modo, quindi nessuno, e questo succede per i più paranoici, nessuno può vedervi le parole eccetto voi. Allora, come prima cosa vi consiglio di disinstallarvi un po' di applicazioni che avete dentro il Ledger. Perché? Perché l'app che dobbiamo installare pesa parecchio. Quindi io ho dovuto disinstallare tante app finché sono arrivati a due o tre app nel Ledger. Quindi io ad esempio avevo Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, IOS, Stellar, Litecoin, Monero. Ne ho dovute cancellare un po', quasi tutte, e mi sono lasciate ad esempio solo tre, solo Bitcoin, Ethereum e non mi ricordo quali sono, mi sono lasciate, però fai conto, Bitcoin Cash. Quindi non ho lasciate tre. Perché? Quando avete disinstallato, si fa, ovviamente lo sapete, con questo tasto, quando vi siete disinstallate le varie app, potete andare su Recovery, scrivete Recovery, Check e è questo. Quindi dovete installare. Se vi dà installazione fallita, vuol dire che dovete rimuovere ancora un po' di spazio, quindi disinstallate qualche app finché non riuscite a installare. Poi, una volta installato, dovete andare sul vostro Ledger e entrare sul Recovery, Check. Quando, ovviamente lo sapete, no? Si fa con, cliccando tutti i due tasti, entrate sul Recovery, Check. Non vi preoccupate perché questa parte rimane sul Ledger, quindi non avviene su internet, non esporrete le vostre chiavi private, il vostro seed online, no? Sul desktop, ma tutto avviene sul Ledger, quindi state pure tranquilli. Lanciate, appunto, questa app Recovery, Check e vi chiederà di quante parole è composto il vostro seed. Generalmente per il Ledger è di 24 parole, quindi inserite 24 parole o quante ve ne ha fatte salvare, ma sicuramente è 24 perché il Ledger ne fa salvare 24. Una volta che avete inserito 24, vi chiederà tutte le parole in ordine, come l'avete salvate, una ad una. Quindi vi chiederà di inserire, ad esempio, le prime due lettere della parola e dopo un po' vi dà delle opzioni. Ad esempio, per la parola 1, se la mia fosse, ad esempio, famiglia, dovevo mettere F, poi A, e poi dovevo scorrere finché non trovo famiglia. Dovete fare tutto questo giochetto finché arrivate alle 24 parole. Ora, una volta completato questo procedimento, che vi consiglio di farlo in maniera veramente molto lenta e attenta, perché se lo fate velocemente, magari sbagliate a inserire una lettera oppure una parola, anche l'ordine magari sbagliate, dovete rifare più volte il procedimento, quindi conviene farlo una volta e fatto bene, secondo me. Arrivata la ventiquattresima parola, quando la inserite vi dirà se il vostro seed che vi siete salvati matcha con il seed presente dentro al ledger Nano S. Allora, se matcha, come è successo per me, vuol dire che va tutto bene, quindi basta, finisce così. Se invece non matcha, assicuratevi di aver messo 24 parole e di averle messe bene, quindi rifate il procedimento e ricontrollate che le parole siano in ordine, come le avete salvate e che siano effettivamente quelle lì, quindi non ci siano errori. Se anche in questo modo, dopo questo controllo, ci sono errori, non vi preoccupate, come potete fare per risolvere? Allora, se non matchano neanche in questo caso, vuol dire che le avete scritte male le parole, però basterà che vi installate un wallet temporaneo, che può essere ad esempio anche Exodus, oppure un wallet specifico, magari per NIO o la criptovaluta in questione, dal vostro ledger trasferite le criptovalute nel nuovo wallet temporaneo, dopodiché create un nuovo wallet dal ledger, quindi lo ripristinate allo stato di fabbrica e create proprio un nuovo wallet dall'inizio. Vi riforniranno altre 24 parole, questa volta assicuratevi di salvarle per bene. Magari una volta che ve la siete salvati, potete rifare lo stesso giochino con il recovery check, così per stare sicuro da subito prima di ritrasferire fondi che effettivamente il seed matcha. Se matcha, poi dai wallet temporanei, come ad esempio magari Exodus, vi ritrasferite i bitcoin o le varie criptovalute dentro al ledger e questa volta così siete sicuri che il seed matcha e ve lo siete salvato anche bene. Poi è ovvio che, come per la prima volta, vi dovete fare più copie di questo foglio dove salvate il seed e lo dovete tenere in più parti, perché se lo perdete è veramente un casino. Spero che questa guida vi sia stata utile. Fate, ragazzi, questo è il procedimento perché se avete un seed sbagliato è un casino se succedono problemi al vostro ledger, se ve lo rubano eccetera, quindi fate questa prova di verifica. Ci vediamo al prossimo video, ciao!